ciao a tutti nuovo video svuota la spesa siamo stati di nuovo alla copp allora la spesa iniziale era di 54 27 ci siamo fatti scalare i punti e abbiamo speso invece 30 euro e 76 quindi abbiamo preso due pacchi di fa un bauletto cereali e soia poi abbiamo preso un barattolo di capperi finalmente riesco a trovare facilmente i capperi c'è stato un periodo che non li trovavo mai poi filetti di alici ho preso due pacchi di poco pops che erano in offerta a un euro e 80 se non sbaglio e quindi ne ho presi due abbiamo preso le fette biscottate belle buone quelle con semi di zucca semi di lino mirtilli rossi e mandorle che sono veramente buone anche se preferisco quelle con i fichi però c'erano solo queste quindi poi ho preso il caffè dato che a lidl ormai non si trova più quello che prendevamo noi e stiamo provando quello della copp questo quello intenso per marco che gli sta piacendo poi ho trovato il ginseng che credo dovrebbe essere compatibile con la mia macchinetta e a me piace tanto il ginseng ma non trovo mai le capsule quindi speriamo siano compatibili poi abbiamo preso le pizze anche queste erano un'offerta ora non mi ricordo quanto e sono confezioni da due pizze margherita bella napoli poi ho preso i crocca fish al salmone che francesco ne va a matto ho preso le confezioni di crocetto cotto ho ripreso il latte senza lattosio per i gatti ho preso un bel po di zucchine una confezione di mascarpone da 250 grammi senza lattosio e infine abbiamo preso il tè estate zero alla pesca ne abbiamo presi due e estate zero al limone anche di questo ne abbiamo presi due allora aggiungo questa spesa al video precedente siamo stati alla conad e alla copp allora la conad abbiamo speso 41 euro e 82 centesimi abbiamo preso un po di uva poi una pizza al prosciutto per francesco ho preso di nuovo i miei il cornetti senza zucchi aggiunti del mio bianco poi abbiamo preso questo aperi fresco poi sono passata dal gelato ai biscotti quindi ho preso un po di biscotti questi qui di conad della linea piacerzi senza zuccheri aggiunti con le bocce cioccolato, poi ho preso anche questi qui che sono al cacao, farro e cioccolato senza lattosio della Doria. Poi abbiamo preso un barattolone di Frisk, abbiamo preso degli yogurt che probabilmente mangerà solo Marco perché io ora sono in modalità cose calde. Questo qui di Valsoia alla nocciola e poi questo qui soglia san invece al cioccolato e sempre soglia san nocciola e mandorla. Poi ho preso un pacco di farina per dolci, le Erection di Gorzol, poi un pacco di carta igienica, due pacchi di tappetini igienici per i cani e poi ovviamente ho preso la sabbietta per i gatti che ha cambiato la confezione esterna, prima era in plastica, adesso in carta e ne ho prese due. Alla cotto invece abbiamo preso delle cosine per fare un aperitivo stasera insieme ai formaggi di prima, le mozzarelline impanate, ne abbiamo preso due, poi un pezzo di focaccia con i semi di girasole, crocchette di patate e poi ho preso due vigne alla nocciola che vabbè non c'entrano niente con l'aperitivo ma mi andavano. E poi c'è il ghiaccio. Alla copp abbiamo speso 10 euro e 11 centesimi. E basta, grazie mille di aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!